Primo punto in trasferta per il Giulianova che ha fermo, ha cullato sino al novantesimo il sogno di acciuffare il successo in campo esterno. E' finita 2-2 contro una fermana che comunque è attaccato per gran parte della gara. Ha collezionato la formazione di casa 13 calci d'angolo e sulla sua strada ha trovato un Ursini in grande spolvero. Anche se sulla rete locale del 2-2 pesano gli errori dei migliori in campo, Ferrante, Ursini e anche Giampaolo che al 36esimo ha lasciato la squadra in 10 per il secondo giallo rimediato in modo ingenuo. Prima del fischio d'inizio un lungo abbraccio tra Osvaldo Iaconi e Francesco Giorgini, due allenatori che si stimano molto e che nella loro carriera da calciatori si sono spesso affrontati da avversari su campi di calcio. Presente anche Marco Raparo, il capitano della Folgore, in procinto di accasarsi alla Samb e che è andato a trovare i suoi ex compagni del Giulianova. Ospiti che affrontano la fermana a viso aperto, lasciando però qualche spazio di troppo ai canarini. Vita, uno degli ex di turno e centrocampista nato, adattato da Giorgini nel ruolo di centrale difensivo accanto a Ferrante. Buon inizio per i marchigiani che per almeno 5 minuti consecutivi non consentono ai giallorossi di lasciare la propria metà campo, ma al primo affondo la truppa giuliese chiede il rigore per un presunto fallo ai danni di Di Stefano. L'arbitro assegna solo un corner agli ospiti. La fermana si affida a qualche tiro dalla distanza con Omiccioli, che però non spaventa più di tanto Ursini. Straccia, tarda a carburare e quando lo fa il Giulianova cambia marcia. Gian Paolo è in stato di grazia e lo dimostra il talentuoso attaccante giallorosso quando serpeggia in area avversaria nascondendo il pallone e consentendo a Marzucco, al minuto 22, di superare Olzac per il vantaggio ospite. Si fa male Comotto, già non al meglio della condizione. Al suo posto l'ex Terrenzio, al centro della difesa. Al ventottesimo invalidato un gol ai Canarini per una carica ai danni dell'estremo giallorosso. Poco dopo Valdesse rimedia il giallo per una simulazione in area. Bravo, rivi al trentaduesimo con un fennente che impegna Ursini in corner. Dal calcio d'angolo nasce il penalty per un tocco di mani in area di Di Stefano. Dal dischetto va Valdesse. Ursini tocca con il piede, ma non riesce a deviare. I giallorossi tornano sul finire di tempo nuovamente in vantaggio. Il timbro è di Giampaolo che approfitta di un doppio errore di Iotti e Cremona. Brividi per gli ospiti al quarantaseiesimo, ma al riposo si va col Giulianova in vantaggio. Nonostante il campo non in perfette condizioni, la fermana nel secondo tempo riesce ad alzare il ritmo. Al diciannovesimo Ursini compie un mezzo miracolo su Bossa. Il numero sei Canarino va vicino al pari poco dopo, raccogliendo di testa un traversone dalla sinistra. Schiaccia troppo e la sfera termina sul fondo. Iaconi toglie Terrenzio, vuole un centrocampista offensivo. Dentro Misin, Ursini super su Valdessa alla mezz'ora. Al trentaseiesimo l'episodio dell'espulsione di Giampaolo, che tira dopo il fischio dell'arbitro. Punizione eccessiva per l'attaccante giallorosso, ma che lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Fermana all'assalto finale, ma il pari arriva su un clamoroso errore del pacchetto arretrato giuliese. Non si intendono Ferrante e Ursini. Iotti ha solo il compito di spingere in fondo al sacco. Canarini fischiati dal proprio pubblico, giuliesi applauditi dai propri sostenitori. In settimana, in arrivo i primi acquisti. In casa giallorossa, di sicuro firmerà il trequartista Pellecchia, ex Brindisi.